A maggioranza la Commissione Bilancio ha approvato il testo della proposta di legge finanziaria che contiene le disposizioni che appaiono indifferibili e urgenti. Proseguono intanto i lavori della Commissione per completare l'esame dei provvedimenti legati al bilancio. Il liceo scientifico e indirizzo sportivo è la novità prevista dal piano dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2014-2015. A maggioranza la Commissione Cultura ha espresso parere favorevole alla delibera della Giunta che a breve verrà trasmessa all'ufficio scolastico regionale. Immagini di uccelli esotici dal raffinato piumaggio tratte dall'opera General Synopsis of Birds dell'ornitologo inglese John Latam sono esposte fino all'8 marzo alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. La mostra promossa dal Consiglio regionale espone anche volumi di altri naturalisti e alcuni esemplari di uccelli. Presentato a Palazzo Lascaris il volume 600 Milano, la resistenza degli internati militari italiani a cura dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e dell'Associazione Nazionale Ex Internati Sezione di Torino. Allegato al volume il DVD con le testimonianze di ex internati militari italiani, realizzato anche con il contributo del Comitato Resistenza e Costituzione. Da febbraio nelle scuole medie del Piemonte gli educatori di Libera e ACPOS conducono un progetto formativo contro il gioco d'azzardo e la prevenzione dell'usura. Promosso dall'Osservatorio regionale sull'usura e articolato in laboratori differenziati per classe. Alla Biblioteca della Regione di Via Confienza 14 a Torino fino al 26 febbraio è aperta la mostra Studenti del Piemonte, sei secoli di università a Torino. L'allestimento, curato da Marco Albera, propone un curioso spaccato del mondo studentesco universitario che raccoglie diplomi e tesi di lauree affinemente rilegate, foto di gruppo, manifesti e testimonianze della goliardia. Luci che illuminano le tenebre è il titolo del volume di Pasquale Totaro presentato a Palazzo Laskaris per l'iniziativa dell'Associazione per il Tibet e i diritti umani istituita presso il Consiglio regionale. Il libro è dedicato alle storie dei martiri, dei gusti e delle figure esemplari vittime di genocidi e persecuzioni a partire dalla tratta dei neri fino alle tragedie e tutt'ora è in corso.